5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 19 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 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 eh no qua devi girare è qua che ti ciula perché è stretta anche se l'allarghi dopo ti chiude troppo dai mozzisone bravo uno uno fa duro 3 3 4 5 è basta bravo 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 io ho fatto cose buone cose da schifo è che lì è brutta è è di stare più grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti è giusto così è giusto così è l'unico modo per farla è l'unico modo per farla ma quella da dietro devi allargarla sulla montagnata come hai fatto te senza fermarti e poi andare fuori se no non vai se no non vai